Camila Giorgi ha superato Kaja Juvan, slovena, numero 121 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Cinque anni dopo, l'ultima volta, il tennis italiano femminile può vantare tre giocatrici ai quarti di finale di un torneo del circuito WTA. L'ultimo precedente risale al torneo di Hobart in Australia nel 2015, quando Karin Knapp, Roberta Vinci e la stessa Camila Giorgi approdarono ai quarti. Nel terzo match sul campo centrale, la Giorgi è riuscita ad avere la meglio in rimonta sulla slovena classe 2000, dopo aver perso il primo sette con il punteggio di 6-3, la tenista italiana ha ribaltato l'incontro 6-2-6-4 per un totale di due ore e due minuti di gioco. Per l'ottava volta nella storia dei Palermo Ladies Open, dieci anni dopo, l'ultimo precedente, ci saranno tre italiane nei quarti di finale. No, non la stavo perdendo, ho fatto più errori, ma non la stavo perdendo affatto, anche perché sempre comunque avevo la possibilità di chiudere il punto e la sbagliavo io. Ho dominato sempre io, quindi ho sbagliato tante volte perché non sono entrata, dovevo essere un pochino più incisiva, come ho fatto quando ho preso il terzo set, diciamo, e poi ho sbagliato io. Ha sudato più del previsto la testa di serie numero uno, Petra Martic, la croata ha impiegato due ore e trenta per battere Lyudmila Samsonova, russa, numero 117 al mondo e proveniente dalle qualificazioni per lei. Si tratta della diciassettesima vittoria negli ultimi venti match giocati sulla terra, oltre che del nono quarto di finale in un torneo WTA da gennaio 2019. Nel match che ha aperto la giornata sul centrale, invece, la testa di serie numero quattro, Annette Kontveit, ha battuto in 3-7 la tedesca numero 65 al mondo Laura Sigmund, con il punteggio di 3-6-6-2-6-2 in due ore e diciotto minuti. La tennista Estone affronterà nei quarti Elisabetta Cocciaretto.